Cari ascoltatori di Super Gossip, oggi vi portiamo un aggiornamento che sta facendo impazzire il web. Protagonisti di questa avvincente vicenda sono Martina de Ioannon, latronista 26enne di Uomini e Donne, e il suo corteggiatore Ciro. Le anticipazioni delle ultime registrazioni del programma hanno già lasciato i fan con il fiato sospeso, ma le segnalazioni giunte il 12 dicembre scorso hanno acceso ancora di più la curiosità. Ecco cosa è successo. Dopo la registrazione di lunedì 9 dicembre, il bel Gianmarco è andato nel camerino di Martina per parlarle, ma la situazione ha preso una piega inaspettata. I due si sono scambiati un bacio. Il giorno successivo, martedì 10 dicembre, in studio è stato mostrato il filmato incriminato e la reazione di Ciro è stata esplosiva. Il corteggiatore, visibilmente scosso, ha abbandonato lo studio, lasciando tutti senza parole, inclusa Martina, che non è riuscita a farlo rientrare. La vicenda sembrava destinata a segnare un punto di svolta definitivo, ma due giorni dopo ecco il colpo di scena. A Torre Annunziata, il paesino di Ciro, alcune persone hanno avvistato la tronista in compagnia proprio di lui. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Martina avrebbe aspettato il corteggiatore fuori dalla palestra e, una volta raggiuntolo, i due avrebbero trascorso del tempo insieme su una panchina, in quella che è stata definita una vera e propria esterna improvvisata. Le foto circolate online immortalano il momento e raccontano di un confronto intenso tra i due. A quanto pare, Martina ha voluto rassicurarsi sulla partecipazione di Ciro alle prossime riprese, cercando di chiarire le incomprensioni nate dopo l'episodio del camerino. Un gesto che ha fatto parlare molto i fan, suscitando opinioni contrastanti tra chi lo considera un segnale di interesse sincero e chi, invece, ipotizza che si tratti di una mossa strategica. Il blogger marchigiano Lorenzo Pugnaloni, condividendo gli scatti e le segnalazioni, ha commentato con entusiasmo. Eccoli, sono tornati i tempi d'oro del trono classico. Una riflessione che sembra trovare d'accordo anche Maria De Filippi. Proprio pochi giorni fa la conduttrice ha elogiato il percorso di Martina e dei suoi pretendenti, sottolineando come questo trono stia riportando in auge l'interesse per il format classico, che da tempo non riscuoteva tanto successo. Ma torniamo alla domanda che tutti si stanno facendo. Quale sarà il destino di questa storia? Martina continuerà a cercare di riconquistare Ciro o il suo cuore è ormai tutto per Gianmarco? L'esterna improvvisata di Torre Annunziata sarà sufficiente per convincere il corteggiatore a rimanere e continuare a lottare per lei? Le anticipazioni promettono ulteriori colpi di scena, ma per ora possiamo solo attendere la prossima registrazione per scoprire come evolverà questa intricata vicenda. Restate sintonizzati su Super Gossip per non perdere nessun dettaglio su questo e altri momenti clou di uomini e donne. Intanto, diteci la vostra. Secondo voi Martina e Ciro riusciranno a trovare un punto d'incontro o il bacio con Gianmarco ha segnato la fine definitiva del loro percorso? Scrivetecelo nei commenti e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti più scottanti del dating show più amato d'Italia.